Nella quattordicesima giornata di campionato al Carillo Pesenti-Pigna di Alzano arriva il Renate. L'Alzano-Cene è sotto la lente d'ingrandimento, non solo perché il match è tra due formazioni d'alta classifica e perché l'Alzano-Cene arriva da una brutta sconfitta con l'Insubria, ma soprattutto per valutare la reazione della squadra dopo l'abbandono della panchina di mister Roberto Crotti. La formazione seriana guidata da Ezio Morosini e da Mario Consonni non subisce stravolgimenti. In campo scendono i consolidati reparti in un classico 4-4-2 con il rientro in difesa di Forlani e davanti la fruttuosa coppia di punta a Valenti-Spampatti. Tutto succede nel primo tempo, il Renate è pungente e insidioso, ma l'Alzano-Cene si impadronisce immediatamente della scena e con Serafini impegna subito Grilli ad uscire dai pali. Spampatti non resiste, più volte cerca la via del gol, costringendo Grilli ad intervenire. Spampatti è pericoloso in area, così la difesa ospite lo marca stretto, tanto da atterrarlo con intervento falloso in piena azione. Per il direttore di gara, il signor Ricciardella della sezione di Verbania è rigore netto. Al 32esimo è lo stesso Spampatti che trasforma, portando in vantaggio l'Alzano-Cene. Un vantaggio però che dura poco, il Renate reagisce subito. In possesso palla per tutta l'azione, i ragazzi nerazzurri di Mister dell'Orto procedono verso la porta di Romano, con passaggi precisi, poi gestra in posizione favorevole, sfrutta un vuoto difensivo e centra la rete, ristabilendo la parità. Finirà così la partita con il risultato di uno a uno, anche se nella ripresa numerose sono state le occasioni gol per entrambe le formazioni. Battaglino calcia con precisione una punizione per Mercuri, che con un gran colpo di testa insidia la porta seriana. Ancora Romano protagonista, questa volta ai guidetti a servire la sfera giusta. Moretti risponde, ma Romano è pronto a metterci del suo. La partita termina con un brivido, Grammauta pennella un cross perfetto, Valenti riceve e con un colpo di testa fa tremare la traversa.